Centro Trasfusionale di Pescara al centro di un convegno che riunisce nella città adriatica scienziati di caratura internazionale, tutti pronti a confrontarsi e confutare innovazioni, studi e ricerche condotte sull'invecchiamento delle cellule staminali. Obiettivo del workshop quello di stimolare lo scambio scientifico, quello che per inciso ha portato l'unità trasfusionale di Pescara tra le eccellenze dell'innovazione nazionale. Ha sempre guardato all'innovazione e al futuro e grazie al dottor Iacone quattro anni fa abbiamo iniziato anche ad avere un piccolo laboratorio di ricerca e quindi con il laboratorio di ricerca si aprono ovviamente nuovi orizzonti, cioè la voglia di mettere in contatto anche il clinico con la ricerca, di stare sempre insieme, di avere una ricerca traslazionale e noi aiutare il clinico a risolvere alcuni problemi che loro hanno nell'ambito anche di trovare nuove situazioni, nuove cure per i loro pazienti. Nel comitato scientifico scienziati provenienti dai maggiori centri di ricerca internazionali come quello di Sheffield e Liverpool in Gran Bretagna, quello di Düsseldorf in Germania e quelli statunitensi. L'incontro ha visto partecipare chirurghi, ematologi, ortopedici, biologi e specialisti della riabilitazione. E' la voglia di creare questo incontro, di creare collaborazioni, di avere anche tanti giovani come abbiamo in sala per creare uno stimolo allo studio ed avere anche un futuro attraverso lui, perché noi stiamo cercando di creare ma vogliamo avere anche gente nuova e giovani cui portare e poi dare questo testimone. Questa è l'idea e un po' il sogno di tutti noi.